Ecco, ecco, questa è la punizione veramente che il 30 gennaio, quello del quale, il 30 gennaio 1994, segnai a Porto Recanati. Un ragazzo mi dice che fai, ci provi, ci provano a raccontare a distante, avevo 16 anni. Un quadro solo a quelli di loro perché non era il nostro il cameraman. Ecco qua, gasato il gol, tocco l'ultima, l'unica altra palla, slalom, è classico, porca miseria. E questo è un'unica altra palla, eh?